Una piazza affollata, una città in piena sicurezza. Si dichiara contento e soddisfatto per come si è celebrato il capodanno in piazza Salerno il sindaco Vincenzo Napoli che dal palco di Piazza Mendola con un brindi si è celebrato il 2020 con quanti hanno deciso di attendere il nuovo anno in piazza con il concerto di Rene Grandi e Enegrita. Tante presenze per la città di Salerno, tanti salernitani ma anche tanti turisti ha dichiarato il primo cittadino per una città più bella e piena di eventi come è stata in questi giorni di Natale con l'evento di richiamo delle luci d'artista. Spettacolari poi i fuochi d'artificio sul lungomare a far brillare l'inizio del nuovo anno, folla, musica e divertimento e per fortuna nessun danno. Credo che possiamo farlo con grande consapevolezza e siamo lusingati per come è andato il concerto nel senso che c'è stato uno splendido concerto, un'affollatissima piazza, una grandissima partecipazione in assoluta sicurezza, assoluta sicurezza. Devo ringraziare veramente le maestranze e quanti hanno lavorato nel Capodanno per rendere possibile questo splendido concerto che ha raccolto il consenso unanime mi pare, stando all'affollamento e che credo sancisca un bilancio assolutamente positivo per quanto riguarda questa tornata di luci d'artista che ha visto ancora una volta la nostra città sovraffollata e piacevolmente sovraffollata di turisti e visitatori.